solo quando non c'è più si riflette sul ruolo e sulla vera importanza di quella persona solo quando si acquisisce reale cognizione che non c'è inizia veramente a mancare accade fin troppo spesso e ora è accaduto all'intera modica che piange antonio a urnia un uomo un noto imprenditore che tanto ha fatto per la città e soprattutto per lo sport cittadino prima al vertice di una carriera brillante e poi il lento e silenzioso declino terminato con la drammatica decisione di farla finita per molti non si tratta neanche di suicidio ma di un sistema che uccide quello dei pignoramenti delle aste giudiziarie che invece istigano al suicidio non scrivete che antonio a urnia si è suicidato ha scritto il leader del movimento dei forconi mariano ferro antonio a urnia è stato assassinato nel peggiore dei modi con il quale si possa uccidere un uomo lo ha ucciso il sistema ragusa dove la massoneria ragusana che risiede al tribunale in stretta collaborazione con alcune banche toglie alle persone per bene per regalare agli sciacalli ma oltre i forconi sono decine le prese di posizione e gli attestati di cordoglio decine di amici decine di persone che volevano bene antonio era una delle persone più buone che abbia mai conosciuto lo ha invece scritto piero torchi che era sindaco proprio mentre a urnia era riuscito a portare il modica calcio in c2 ho condiviso con lui continua torchi grandi gioie straordinari risultati in una città che alla sua intuizione imprenditoriale visionaria deve moltissimo se oggi esiste il polo commerciale molto de merito deve andare a lui uomo buono e generoso ha regalato alla sua città un sogno quello del calcio professionistico dopo oltre vent'anni poi il sindaco di modica egnazio bate che ha rinviato a data da destinarsi viste le tragedie di ieri anche la conferenza stampa sulla ciocco modica cosa dire di una persona che per la modica sportiva imprenditoriale ha rappresentato un punto di riferimento difficilmente eguagliabile sono rimasto senza parole ha affermato abbate una tragedia immane che ha lasciato sgomenti tutti modica perde il suo patron per eccellenza colui che è riuscito a far sognare un'intera città colui che per amore ha dato tutto senza nulla pretendere nessun altro presidente sarà come lui nessun altro riuscirà a fare innamorare la città come ha fatto lui CNA ma anche il sistema confcommercio della provincia di ragusa in particolare confcommercio modica esprime il proprio dolore per la tragica scomparsa dell'imprenditore Antonio Aurnia già presidente dell'ente bilaterale territoriale di ragusa oltre a essere stato da sempre punto di riferimento per l'associazione di categoria a livello cittadino e provinciale Aurnia ha saputo incarnare al meglio il prototipo di operatore dinamico innovatore in grado di dare lustro alla sua città modica oltre che il resto della provincia iblea non ci sono parole sottolineano i vertici di confcommercio provinciale ragusa di confcommercio modica per esprimere tutta la nostra costernazione quella dei nostri associati a fronte di una tragedia così immane domani alle 10 nel duomo di san pietro a modica i funerali di Antonio Aurnia che lascia i genitori la moglie e due figlie sul manifesto funebre la scritta ho messo in ogni mia azione la passione possiate ricordarmi per la mia generosità lealtà e per l'artruismo